Due amici che sono al bar stanno parlando Oì, ma lo sai che hanno messo in vendita i francobolli raffiguranti il sedere di Berlusconi? Risponde l'altro, sì sì lo so, ma tu non sai che li hanno tolti dalla circolazione subito? Risponde l'altro, e perché? Perché c'era Emilio Fede che li leccava dal lato sbagliato Oì, oì, oì